Viale della Resistenza, sud dell'Aleia. Un cammino da San Giuseppe in consacrato, a tuca antecagliero i bricchetti, e avassù tra due fili di plato a feumbra di stà, piangano i passarrot e i brangrutului. Un saldritto è il filo spinato di Carabinier, un po' più su, la cattivigina adesso è invitata, senza pilasio e le crave, ma stai a Vardè a smiattarlo ancora attraverso la strada. A metà viale, ha trovato la congrega di Alpin, un corpo che, tra la Resistenza, ha visto le sue. A faccia, ha giocato le bocce con l'ostro da usino, tanto per tirare l'asso e per cantare le due. quasi alla cima, a ciò dell'asilo, stermà e, sulla sinistra da strada, la Villa Salute, da una parte le speranze delle nostre masnà, da un'altra cui che l'hanno già provato tutte. giura la parrocchia qui santa, a comanda, a guardare i cui pezzo paese, e a su un ammestì, ma la tour, che da secui all'Elia randa, ai dispià, sì, una volta, i cui mandavo me. e il via della Resistenza, delle volte, a piura. Quanto a sformo all'inizio, e a cario le fior, la gente, a sfica ancora, dredd la vittura, poi, incesa, la curva, e via da noi, signor. Sud l'Elia, per la parrocchia, Trifanello, la gente, a munta e a cala, per dritto o per storto, dal nono col baston, al gagno col muruffel, chi cacala a Pinèng, e sono i nostri morti. Alla prossima.